A proposito di solidarietà, è tornato nei giorni scorsi da un viaggio in Burundi il nostro collega Roberto Boff, che lì ha documentato una toccante iniziativa, quella della Banca di Credito Cooperativo di Bustogarolfo e Buguggiate, che ha finanziato la costruzione di un reparto di pediatria nell'ospedale di Mutoi. Questa esperienza sarà il centro di un nostro speciale che trasmetteremo a fine giugno. Intanto, un servizio. È stato un viaggio molto particolare, quello di Paolo Pozzi e Gianfranco Sommaruga, in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Buguggiate Bustogarolfo, nel cuore dell'Africa. Lo scopo era quello di toccare con mano quanto realizzato sull'alto piano 100 km nord-est di Bujumbura, capitale del Burundi, grazie al contributo di tanti varesini e milanesi, ma soprattutto dell'Istituto di Credito, preseduto da Lidio Clementi. La realizzazione di un nuovo reparto di pediatria dell'ospedale di Mutoi, gestito da sacerdoti, suore, operatori e volontari sostenuti dal Vispe, l'associazione volontari italiani per la solidarietà ai paesi emergenti. Ogni giorno, l'ospedale di Mutoi offre mediamente più di mille prestazioni, per lo più a bambini. In Burundi, la mortalità infantile arriva all'8%. L'opera silenziosa di tanta gente, religiosi e non, continua ininterrottamente dai primi anni 70, nonostante le guerre tra etnie abbiano penalizzato lo sviluppo di un paese di 8 milioni di abitanti, in cui la vita media non arriva a 30 anni. A Mutoi, i missionari e gli operatori del Vispe inseguono l'obiettivo di rendere autonomi gli indigeni di un territorio in continua espansione, grazie alla creazione di cooperative e strutture che offrono assistenza sanitaria, istruzione ai bambini e lavoro agli adulti, con il fine di far intravedere un futuro migliore ad un popolo formato prevalentemente da bambini, etichettato terzo mondo, dai paesi autoproclamatesi del primo e del secondo. Mondi che, per i Burundi come per il Congo e Ruanda, decidono una vita diversa dai paesi confinanti, ricchi di residenze su spiagge dorate e safari in pulmino. Scenari artificiosi, nemmeno paragonabili ai sorrisi dei bambini di Mutoi, che cantando a piedi nudi, ma con orgoglio all'inno del proprio paese, sul terzo gradino del podio di una fantomatica civiltà, non ci vogliono andare. Grazie ancora a Bof, che con la sua consueta sensibilità ha firmato questo reportage. Torniamo a ripetere alla fine del mese di giugno, dedicheremo a tutta questa esperienza un lungo speciale.